Il Tribunale del Riesame di Napoli, che ha depositato l'ordinanza accogliendo la richiesta dei PM Henry Woodcock e Francesco Curcio sul reato associativo, ha deciso che sussistono gli elementi per definire la P4 un'associazione a delinquere. Il Tribunale del Riesame avrebbe accolto il capo A, della richiesta dei PM. Luigi Bisignani, Alfonso Papa e la Monica promuovevano, costituivano e prendevano parte ad un'associazione a delinquere, organizzata e mantenuta in vita allo scopo di commettere un numero indeterminato di reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia. La decisione ribalta quella del GIP che nelle ordinanze di custodia cautelare aveva allontanato tale accusa.